Continuiamo con la presentazione in anteprima delle novità. In questo caso siamo di fronte alla serie E, quindi macchine isodiametriche della gamma Goldoni, nel caso specifico il modello E70. Vediamo già delle caratteristiche comuni, che abbiamo già spiegato, come la carrozzeria Full Metal Orange e anche la possibilità di bull bar anteriore. Ma adesso entriamo nel dettaglio. Qui con me abbiamo un altro ospite, in questo caso il responsabile commerciale after sales di Goldoni Kistrak, Andrea Ugatti. Voglio chiedere a lui le caratteristiche di questa macchina perché abbiamo delle novità non solo sul prodotto ma anche sui servizi correlati al prodotto. Ciao Andrea, buongiorno, benvenuto, dammi una mano, spieghiamo le caratteristiche di questa macchina. Allora, iniziamo dal motore. Abbiamo un motore su questa macchina che è l'E70, un motore FCA da tre cilindri. Arriviamo fino all'E100 equipaggiato con un motore FCA di quattro cilindri da 91 cavalli e le macchine sono state tutte rinnovate nella livrea, come potete notare, con il colore con la banda nera sopra e oggi equipaggiabili anche con un bulbar di protezione dell'area del cofano per rendere la macchina più sicura nelle manovre strette tra i filari delle vigne. Molto interessante. Per quanto riguarda la trasmissione, il posto guida, il confort dell'operatore invece cosa possiamo dire? Allora, la trasmissione è una trasmissione meccanica, 16 più 16, dotata di uno snodo che permette alla macchina di adattare la sala anteriore e quello posteriore alle pendenze, alle diverse pendenze del terreno e avendo un baricentro molto molto basso permette alla macchina di essere molto stabile anche in pendenze molto accentuate. Interventi importanti sono stati fatti sulla trasmissione per renderla più morbida e più facile all'utilizzatore grazie dei leverismi che sono stati completamente rivisti. Però non solo prodotto, vedo anche servizi, vedo il kit di agricoltura 4.0, quali altri servizi diamo a corredo del prodotto? Esattamente Alessandro, oltre al kit di agricoltura 4.0 che viene equipaggiato su tutte le nostre macchine, la serie E in particolare verrà offerta durante la prossima fiera di Verona con un pacchetto finanziario di finanziamento agevolato per l'agricoltore fino a 4 anni e incluso anche di garanzia estesa per la macchina stessa. Questo per dimostrare come Goldoni crede nel proprio prodotto, abbia fiducia negli sviluppi tecnici che ha portato sulle macchine e vuole offrire questa macchina con questa offerta al cliente finale.